Allora voglio fare un intro strana ma non me voglio ammazzare Tra l'altro in molti erano già notati il buchetto che mi sono fatto ai jeans O meglio, buchetto Diciamo che ormai in ogni video ci deve stare a qualcosa di bucato Comunque Ciao a tutti amici, sono Clowns e benvenuti ragazzi quest'oggi finalmente sul mio canale E quello che faremo quest'oggi ragazzi, sicuramente l'avete già capito dal titolo o dalla copertina Sarà il secondo episodio della serie Che davvero in troppi mi avete chiesto di rifare Scherzi telefonici su Skype Non so perché me stiamo in questo modo Che tra l'altro raga, era un video che non vedevo l'ora di registrare Perché nello scorso episodio ero tipo morto dal ridere E appunto non vedevo l'ora di registrare questo video Quello di quest'oggi comunque ragazzi sarà un episodio un po' diverso rispetto all'altro Perché infatti quest'oggi chiameremo anche gli youtubers Quindi faremo un mix tra youtubers e persone prese a caso da vari siti internet E quindi diciamo che sono un po' più elaborati O comunque hanno un po' più di senso rispetto a quelli dell'altra volta E io ragazzi fin da subito invito a lasciare un bel like E mi raccomando se volete vedere un altro episodio di questa serie Giovedì prossimo superiamo i 40.000 like Che sì, sono fracco di like Però ce la possiamo fare Quindi mi raccomando lasciate un bel like Anzi prima di cominciare con gli scherzi Volevo farvi vedere il nuovo trailer di Cattivissimo May 3 Perché c'è l'universal che ha visto non so come sul mio Instagram Che ogni tanto faccio delle foto tipo con i minion E quindi mi hanno invitato a vedere questo trailer assieme a voi Che fa raga? Non so perché ma ogni volta che vedo questo qua Il personaggio che si chiama Gru Ogni volta mi viene in mente Sasha Non so perché forse per il naso Scusami Sasha Chi è mu questo? Ok credo che sia tipo il nuovo personaggio cattivo del film Solo che che senso ha fare tutto questo in una barca Ok Brat allora sarà sicuramente il nuovo tipo cattivo del film Voglio tutti gli agenti in mare immediatamente Agenti Gru si in avvicinamento Sì Aspetta cosa? Come ci hai chiamato? Gru si? Sai? Gru e Lucy mescolati? Gru si? Hanno fatto tipo la ship che adesso va di moda Tipo Sa scefano Che poi raga dai parliamone C'è Lucy che effettivamente è uguale a Sabrina E Gru è uguale ad Anima C'è C'è sta come ship Io ogni volta che vedo Gru penso sempre d'Anima Ho recattato malissimo No però Gru qua li devi far Dabba addosso LOL Comunque raga dai è Anima È Anima Oh finalmente anche i Minions Bart e Stewart finalmente Infatti mi stavo chiedendo i miei Minions Figo Figo Se non erro tra l'altro la data ufficiale dovrebbe essere il 24 agosto Comunque Come vi ho detto prima gli scherzi di quest'oggi sono un po' più elaborati E in particolare questo primo scherzo consisterà nel chiamare la gente che vende le cose usate online Tipo le sedi, i tavoli o comunque roba a caso Parlarci e poi passargli la nostra vittima In questo caso Sabrina E ho scelto Sabrina essenzialmente perché ha un sacco di animali E perché tende a cascare tutti i miei scherzi Quindi Sabrina ti voglio bene Incrociamo le dita e vediamo cosa non uscirà fuori Pronto? Pronto buonasera Sì? Parlo con Luciano? Sì sono io Salve la contatto per l'annuncio che ho visto del cavallo su internet Ah sì salve Volevo sapere se era ancora disponibile Sì sì l'ho messa stamattina su internet Certo Era una volta che è telefonata Però sì Volevo chiederla a questo punto Se magari posso passare alla mia ragazza Che le vuole chiederle delle informazioni un po' più specifiche Sulle varie cose del cavallo Gliela posso passare un secondo che Poi no c'ho anche lì Adesso mi sono mutato Speriamo che Sabrina risponda Pronto? Sì pronto? Sì Pronto? Sì? Sì pronto Buonasera Buonasera Guardi mi ha messo In comunicazione il suo ragazzo mi ha messo Ha mandato il suo numero Per una cavalla Adesso mi dobbiamo fare delle domande Per una cavalla? Ma per una cavalla quelle che si cavalcano Esatto Io so che mia sorella sta cercando un cavallo Però non so guardi Allora Lei mi ha chiamato una persona Che mi ha detto che è il suo ragazzo A questo punto non so neanche Lei è il ragazzo? Sì Mi ha detto Mi ha detto che Mi avrebbe messo in comunicazione con lei Perché stava lavorando Quindi Non poteva Non so Chiamarmi direttamente Perché mi doveva chiedere delle informazioni C'è una cavalla che lo sta vendendo A questo punto magari sentitevi voi E poi eventualmente Ci presentiamo No ma magari Se sei andata a sé Non ti voglio prendere un cavallo Provo a sentire lui perché Se la voglia Però magari Lo doveva dire prima E mi ha detto Come fai Io stavo cercando la chiesa L'ultimo minuto su sette mesi Che gioco Questo mi chiamano Che se vuole un cavallo È un po' più strana La mia di conversazione Che la sua in realtà No no Ma non c'è nessun problema Allora Il mio numero Poi casomai Chiamo Tassia E vi chiedo Va bene Chiamo mia fidanzata Certo a capire se vuole È strano Che mia fidanzata Voglia una cavalla Non ho detto Va bene Va bene Intualmente ci risentiamo Ok Buonasera 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 Vorrei provare A proporgli Un altro animale No Pronto Vincenzo Sì L'ha contato per i tacchini Che ha messo sul portale Di vendita Su internet Sì Volevo chiedere Sono ancora disponibili Eh ci sta ancora qualcuna Ma quante ce ne stanno Perché io vorrei prenderne tanti 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 quando Perché mo Non lo so Perché io ho una casetta E appunto vorrei pian po' Dei tacchini Piato per la mia Per la mia ragazza Purtroppo io C'è un maschera femmina La copata Vabbè La coppata Eh poi Poi le fammi accoppare Ti posso passare un attimo La mia ragazza Che ti voleva chiedere delle cose Perché noi possiamo passare anche domani A prenderli Te la passo subito Eh va bene Pronto Sì Allora La cavalla No No I tacchini Con i climatizzatori Cosa No i tacchini A me Ma hanno chiamato Per i tacchini A te Ti hanno chiamato Per i tacchini Eh Io dai chili Conoscete i condizionatori Ma io non vendo Condizionatori Poi giocare Alla Di stare Raga Poi ho detto Sabina No i tacchini Quelli I tacchini Da mangiare Da covarde Non lo so I tacchini I tacchini Signore Mi sa che ho sbagliato il numero Io non vendo Tacchini Mi giuro raga Quando ho urlato I tacchini Sono morto Tritere Purtroppo Non posso neanche urlare troppo Perché se no non capite Quello Ecco chi era la merda No Non è come sembra Non è come sembra No Prima di tutto Da quando io sono fidanzata Con te Non siamo fidanzati Nei due Eh no Allora perché mi ha chiamato Un tizio Che il mio fidanzato Voleva comprare Una cavalla E un tizio Che voleva vendermi Dei tacchini Muceco ti resta sempre nell'ambito Tipo degli animali E uccelli Pronto Pronto Marco Sì Ciao Ti contatto per l'annuncio Degli struzzi Sì Sono ancora disponibili Sì Sono ancora disponibili Ma posso sapere Quanti ne è Comunque Quanti ne sono rimasti No C'è una coppia Adesso E stanno deponendo le uova Di che colore so le uova Verde e metallizzate Per Ah quindi sono proprio quelli Ok perfetto Ti posso passare un attimo Mio padre Che Va bene Non è un problema Te lo metto Te lo passo subito Pronto? Sì? Sì Sì Pronto? Pronto? Pronto dimmi Sì Sì Mi ha chiamato lei Pronto? Ho chiamato io Vedi che mi hai chiamato Tu ma? Come ma? Io ho chiamato Io non ho chiamato nessuno Mi è arrivata una chiamata In questo momento ma Vedi che mi hai chiamato tu Io non Qua il numero Non ho messo nemmeno Cosa è successo? Mi hai chiamato Per gli strucci ma Ti ho chiamato? Per gli strucci Per cosa? Per gli strucci Per gli strucci Mi hai chiamato No no Non capisco Non capisco cosa stai dicendo Ti ho chiamato? Per gli strucci Mo mi hai chiamato Mo mi hai chiamato prima Un minuto fa Mi hai chiamato E volevi sapere Per gli strucci Per gli strucci E quali strucci? Ma buono Lei vende strucci? Questa qua era bellissimo E abbiamo avuto fortuna Che Riccardo ha subito risposto Il problema è che Voglio farmi un altro Per forza E quindi cerchiamo Qualcos'altro online Pronto? Pronto Giuseppe? Sì Ciao ti contatto per le pecore Sì sì Sono ancora disponibili? Sì sì Ti l'ho messo prima E dico ti va bene Se ti passo un attimo Un mio fratello Che parli con lui? Così magari Gli parli un po' Della razza Di come si comportano Un po' Del feeling Che c'è tra loro Pronto? Sì 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 Ti faccio un attimo Ma è che devi parlare con me Per le pecore Devo parlare? Per le pecore Per le pecore Sì Eh No ragazzi Ce la faccio Pronto Marco? Sì Salve La contatto per sapere Se erano ancora disponibili I lama Sì qualcosa Le posso passare un attimo Mio fratello? Glielo passo Glielo passo un secondo Va bene grazie Pronto? Buonasera Mi dica No mi dica lei No io non l'ho chiamata Avevo appena parlato Con credo suo fratello Mi ha chiesto per il lama Tutto il giorno Che mi chiamate Per i piccioni Per le giraspe Per le buche Alle ci dama anche Non lo sono io Non abbia pazienza La gente chiama me Non chiama me No ma scusate un attimo Ma il tuo numero Dove l'ha trovato? Mi dovete profinare Questi animali E io non ho Non ho spazio Non ho tempo Non ho tempo Non ho tempo Non ho tempo È tipo la quinta chiamata Di oggi Che ricevo E tutti Mi dicono Che mi voglio dare Animali E cose del genere Io ho appena parlato E' arrivato lei Come suo fratello Ma io non lo so Io non so Di cosa sta a parlare Io non lo so Senti Adesso raga Voglio chiamare Voglio chiamare Riccardo Per spiegargli un po' La storia Se no si preoccupa Riccardo La vuoi una mucca O uno struzzo Una mucca Non devi rire Sì Porca puttana Dalle due di questo pomeriggio Di animali Ti giuro Ho passato il pomeriggio A unire nelle conversazioni Te e Sabrina Con un'altra gente Che vendeva animali Di tutto il mondo Io non capivo Perché poi rispondevo E poi mi dicevano No no mi hai chiamato tu E io mi cazzavo pure Lo so Tipo Ho tutti Tutti gli allevatori Della zona Che sto sul cazzo Se in futuro Dovrò comprarmi Un fottuto lama Non potrò nemmeno Per qualpa tua Che cazzo ci fai Con lama Poi Eh boi Non lo so Se mi viene Ma di cavallcarlo No Mi scuso Per averti fatto Perdere tipo Un paio d'orette Instacagata E ci vediamo Prossimamente Vabbè Ma fraccuno Bella Bella Io comunque Vi invito a lasciare un bel like Mi raccomando Superiamo i 40 mila like Per il prossimo episodio La settimana prossima Noi ci metchiamo domani Con un nuovo video Assieme ad Anima e Vegas Non perdetevi pure quello Che sarà bellissimo E niente Bella